È lunga la coda dell'epidemia in Lombardia. La curva dei contagi scende, ma lentamente. Il coronavirus è ancora in circolazione, non si deve abbassare la guardia e si devono soprattutto evitare le aggregazioni che comportano rischi ancora molto elevati. È questa la situazione nella regione italiana più colpita dal Covid. In questo momento in Lombardia abbiamo ancora molti positivi, siamo la regione che ne ha di più, ma abbiamo numerosissimi focolai di dimensioni microscopiche, la mediana è due persone. Vuol dire che riusciamo a identificare i focolai quando sono molto piccoli. Il fatto che ne abbiamo ancora centinaia accesi è perché occorrono molti giorni per aspettare la guarigione delle persone, significa che comunque la nostra capacità di svolgere queste inchieste epidemiologiche ormai è abbastanza buona. E si è entrati ora in Lombardia in una nuova fase di indagine epidemiologica. In questo momento fare tanti tamponi non ci garantisce che riusciamo a ridurre il numero di nuovi casi. Purtroppo se fosse sufficiente fare tanti tamponi per rallentare ulteriormente la decrescita, li faremo. In questo momento è importante mirare molto l'attenzione. Certamente assistiamo un po' in tutto il mondo a delle code molto lunghe. Il perché di questa cosa non è chiaro a nessuno, è un fattore di preoccupazione. Quello che diciamo sempre è che l'epidemia non è finita. Quindi è il momento di continuare a tenere l'attenzione alta perché l'epidemia non è ancora finita.